Il caratterista è il sale del cinema italiano degli anni 60 e 70. Il caratterista è una persona che esiste realmente, cioè io esisto realmente e una Sabrina Carilli non esiste nella mia vita. Ma dove vanno altri attori senza caratteri? Ma che stai facendo? Controlla la luce, scusa. Ma sei già iniziata l'intervista, ma cosa dici? Ah, non è d'accordo. Mario Carotinuto, sicuramente un guru dei caratteri. Bombolo e la storia vera. Gigi Reader. E' un altro Fabrizio che era potente essere benissimo, quello che era di Fabrizio. Ho trovato una mia dimensione, ho comprato sei atari di terra, ho l'agriturismo. Io non volevo venire a fare l'altore, io facevo già tutto un altro mestiere, mi piaceva farlo, il caboccanio, il tornitore, il fresatore. L'antipatico, il simpatico, il ciccione, il carattere. Per dire, te, secco, scavato, tu pari ciuccio dalle streghe, ecco te se tu sapessi anche recitare saresti un bel caratterista. Ah, quindi sono bello. No, nel tuo caso tu sei talmente brutto che tu saresti un bel caratterista. Cioè ma pure te mi porti gli imbecilli dentro a casa? E ancora ti porto dietro. Non mi ricordo il nome Non mi ricordo il nome